Sei uno di quelli a cui piace farsi la cannetta in compagnia con gli amici o uno di quelli che si fa la cannetta della buonanotte quindi consuma regolarmente cannabis come, tra virgolette, sonnifero allora dovresti guardare questo video perché ci sono diverse cose che devi assolutamente sapere Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questo nuovo video allora, la cannabis è un qualcosa che viene consumato sempre più spesso, praticamente in tutte le fasce d'età giustamente qualcuno si chiede se questa possa avere degli effetti sui nostri risultati in palestra nello specifico sulla crescita muscolare e sulla diminuzione del grasso corporeo e purtroppo li ha in maniera indiretta quindi non è che il THC o il CBD, che sono i principi attivi principali della cannabis hanno un effetto diretto sulla crescita o sulla diminuzione del grasso corporeo ma ce li hanno in maniera indiretta perché influenzano la produzione di alcuni ormoni tra cui il testosterone da uno studio si è visto che l'uso prolungato e costante di cannabinoidi nel tempo può portare a ipogonadismo cioè a un deficit di testosterone e se ci pensiamo un po' all'effetto che ha il THC sulle persone che le sballa, le fa sentire rilassate, tutte tranquille e via dicendo non è che dovrebbe stupire che i cannabinoidi diminuiscono il testosterone in proposito sentiamo cosa dice il dottore Andrea Militello un andrologo molto molto bravo di cui apprezzo tantissimo la professionalità e i video YouTube ci sono tantissimi studi che sono stati confermati recentemente di come l'uso o ancora di più l'abuso della marijuana e degli oppiodi possa portare a un rallentamento dell'attività testicolare un quadro così descritto di ipogonadismo che si riflette poi con una ridotta produzione di testosterone e una ridotta produzione di spermatozoi quindi rendendo un liquido seminale con un ridotto indice di fertilità è un'esperienza clinica che mi è capitato di fare più volte quindi anche nella mia piccola esperienza posso confermare che specialmente un uso protratto di marijuana porta sicuramente a problematiche sia della sfera sessuale, ci sono numerose condizioni di erezione non perfetta chiamiamola disfunzione erettile e quadri di alterato riflesso iagulatorio che si possono manifestare come iagulazione precoce o ritardo dell'orgasmo consideriamo che anche il riflesso iagulatorio è gestito dalla partecipazione di neuromodulatori come ad esempio la serotonina quindi qualsiasi alterazione delle monamine, della dopamina, della serotonina che può essere chiaramente provocata dall'uso degli oppiodi può dare delle ripercussioni negative su un delicato sistema come quello della sfera sessuale come anche appunto dicevo la disfunzione erettile è presente e quadri di ridotta fertilità quindi non demonizzo come sempre e cerco solo di informare però non attacchiamoci a quei pochi articoli del 2019 in cui si proponeva la marijuana come molecola che può aumentare il numero dei nostri spermatozoi teniamo conto come negli ultimi studi ben documentati su migliaia di persone che si sono sottoposte allo studio e è stato fatto in Inghilterra si è visto come invece l'utilizzo di oppiodi e di marijuana chiaramente dipendente dalla quantità, dalla dose e dal prolungarsi del tempo porta comunque dei quadri di ipogonadismo cioè una ridotta attività testicolare per cui l'utilizzo costante di cannabis ci porta a limitare i risultati che possiamo ottenere in palestra ma perché è venuta fuori questa cosa della cannabis e il suo effetto in palestra? perché molti hanno visto che ad esempio Dorian Gates consumava cannabis quando si preparava all'Olimpia e tuttora consuma cannabis e assieme a lui anche altri bodybuilder mi venne in mente ad esempio Victor Martinez che si faceva i video e si vedeva che era sballato e lui diceva che consumava cannabis per l'appetito che gli generava per poter mangiare di più ora a questi atleti non gliene frega un fico secco se la cannabis può diminuire i livelli di testosterone perché tanto il testosterone se lo iniettano dall'esterno quindi nel loro caso chi se ne frega ma se sei un atleta natural e ogni cosa che fai dalla mattina alla sera può incidere sui tuoi livelli ormonali è chiaro che il consumo costante di cannabis ti remerà contro quindi l'utilizzo costante di cannabis remerà contro ai risultati che puoi ottenere in palestra sia per quanto riguarda la crescita muscolare sia per quanto riguarda la diminuzione di grasso corporeo perché il testosterone serve in entrambi gli obiettivi se invece stiamo parlando di un consumo occasionale cioè una volta al mese con gli amici mi faccio la cannetta è chiaro che anche se l'utilizzo della sostanza non è acqua fresca perché molti la scambiano come la camomilla ma non è una camomilla ha comunque una farmacodinamica precisa il consumo rilegato all'occasionale ovviamente non farà assolutamente nessun danno ma un conto è un consumo occasionale una volta al mese un conto è tutte le sere mi faccio la cannetta della buonanotte se non riesci a dormire la soluzione non è la cannetta della buonanotte devi cercare di capire quali sono le cause quali sono e agire di conseguenza anche qui ho fatto diversi video su come dormire meglio cosa fare per massimizzare la produzione dell'ormone del sonno la melatonina e quant'altro se ti servono dei bio hack per mangiare di più o per cercare di dormire meglio la soluzione non è la cannabis ma sono tante altre strategie che ad esempio puoi trovare nel mio percorso biohacking spartano di cui trovi tutti i riferimenti nel link in descrizione bene spero di essere stato chiaro su questo argomento fammi sapere nei commenti se hai dei dubbi lascia un like al video se ti è piaciuto mi raccomando iscriviti al mio canale youtube se non l'hai già fatto e ricordati di attivare la campanella in modo tale da essere avvisato quando caricherò un nuovo video e io ti do appuntamento al prossimo ciao spartano iscriviti al canale